c'è nessuno c'è nessuno c'è nessuno ma c'è nessuno ragazzi il covid cosa sta facendo cosa sta facendo il covid sto esplorando la città deserta sembra di essere come sul film del 1997 o 96 fuga da new york case abbandonate guardate qui un anno la vegetazione cosa ha fatto perché dietro c'è anche una villa dopo andiamo a vederla beh la cosa bella che con questo covid la natura si è ripresa in mano degli spazi guardate le viole le famose viole del pensiero degli anni 60 l'aria è purissima siamo costretti a avere la mascherina i guanti li ho appena tolti con la bici elettrica perché mi sono sciacquato le mani vi do un saluto e che finisca questo inferno ciao ciao ciao